Il panino migliore è solo da paninissimo! Viene a trovarci e prova tutte le nostre specialità! Siamo aperti anche a pranzo, consegna anche a domicilio! Il panino migliore è solo da paninissimo! A tutta la squadra, un ottimo spirito di squadra! Invece voi un po' di decisione! No, purtroppo loro hanno meritato, potevano di più e ne abbiamo anche più assenze! Non si sente più assenze, però potevamo avere portato in più! Ho visto un'ottima parata, un'ottima parata del portiere! Il portiere è l'esterno! Il portiere? No, prima è il capitano! Sono solo due parole, loro comunque sono stati fisicamente più decisi di noi! Noi stavamo di una mente molto molto peggio di noi! Poi che l'hanno vencata e quindi speriamo alla prossima volta di fare almeno due gol! Il portiere è di là! Per l'arrivare a sette! E' solo lì, certo, scusami il portiere! Oggi preparate qualcosa anche tutto! Allora, la prossima partita del torneo Gialli League! Grazie!